La camera, inquadrami, scusa, ecco Marco grazie, Giuseppe Zeno Ma lui gioca sempre, adesso non so perché qua sta giocando con Zeno È molto istituzionale in questo ruolo Però dovevamo fermarlo perché Cosa c'è secondo te? Qualche scena d'amore con Giulia? Michelini, no? Probabile, può essere Riguarda squadra antimafia, guardate Che insomma le scene in cui ti amano di più è quando ti fanno fuori Quindi forse vuol dire qualcosa che possiamo ancora immaginare Cara amica mia Bella Colombari, bella come una volta Beh, bellezza non poteva che esserci Lei che col tempo diventa sempre più bella poi Io ballo, canto, il nostro cuore rosso alle spalle Allora no, ballo, canto è un parolone Provo a ballare, provo a canticchiare E comunque dopo l'esperienza fatta l'anno scorso con la stile del musical Sono veramente degli artigiani dell'arte Nel senso che ballano, cantano, recitano E chiamarli ballerini è molto limitato A interpretare questi musical, guarda la tua storia Un mix di glamour È un complimento a tutti, a tutta la squadra È vero, bravissima Allora, la pagina del Corriere della Sera per fargli gli auguri Quest'anno cosa? Quest'anno, beh, adesso per quella, con quella pagina Un po' ci sta Allora, ma come si fa? Quello è normalissimo Siamo una coppia molto normale Nel senso che vi... Addirittura Ma, ma, ma È sveglissimo Ci avete provato? Ci avete provato? Avete fatto? Lui già sa come nascono i bimbi, quindi Lui aveva 5-6 anni E mi dice La domanda diretta Gli abbiamo dovuto dire la verità Aveva 5 anni E da lì Tutti i perché Tutte le verità No, e da lì Io ti chiamo Da lì abbiamo dovuto spiegare che Sei Dammi il tuo numero Ma invece No, ma invece È vero che a vent'anni Tu hai raccontato spesso questa cosa di giovanotti Te la chiedono in tutte le interviste Che tu eri innamorata di lui Lui però non si dichiarava Ma Tu hai modo di raccontare Che sia un'emozione Che sia un panorama Che sia un bambino Che sia una scarpa E non c'è bisogno di spiegare tanto No, non ama molto Faccio tutto da me E quelle intime così Con la di schiena come fai a farle? Eh così Poi cerchi di nascondere la macchina fotografica Con non so qualcosa in bagno Allora diamo Non chiamarmi per cucinare Perché non so fare niente Allora chiamiamo i pezzanicchi Perché neanche io Vabbè sto cadendo dalla Che mi spegne sempre le luci Appena passo da una stanza all'altra In corridoio